Trasmettiamo dal vivo, mi avverte, e riprendiamo oggi con A scuola di seduzione. Tanto grazie per chi è già presente e grazie e benvenuti naturalmente a quelli che si aggiungeranno. Sto imparando anch'io a prendere dimestichezza con i video di YouTube, quindi perdonatemi se ogni tanto sono goffo o qualsiasi altro difetto io possa manifestare. Conto sulla vostra comprensione. Allora, il titolo di oggi è un titolo inquietante, tratto anche dalla cronaca di questi giorni. L'ho chiamato Killers, perché può essere plurale, per amore ed improbabili amanti, lovers improbabili. Il fatto recente di cronaca è quella signora che, evidentemente esasperata, ma non conosco ancora i fatti, ha gettato dell'ascido sul marito con cui stava litigando. Diciamo che normalmente sono le donne che sono vittime della violenza maschile, però ogni tanto c'è anche qualche donna che, probabilmente esasperata, passa a via di fatto. Io personalmente, come psicologo e psicoterapeuta, ho seguito per molti anni un'associazione di aiuto alle donne, alle donne vittime di violenza, soprattutto sulla chiave della prevenzione, perché, come si dice, prevenire è meglio che curare. E, onestamente, devo dire, con tanti anni di esperienza, che nella maggior parte dei casi sono le donne ad aver fatto una scelta sbagliata per quanto riguarda il loro partner di vita, matrimoniale o non matrimoniale, ora non ha importanza. Sì, certo, anche gli uomini possono sbagliare nella loro scelta, però le conseguenze di questo errore non sono le stesse per uomini e per donne. Il prezzo più alto, proprio in termini di sangue e di vita, purtroppo lo pagano le donne. E quindi non mi stancherò mai di ripetere, anzi, vi suggerisco di scrivervelo bello grosso, non solo su blocco per appunti, ma anche in tutti i post-it possibili e immaginabili che potete tenere per casa. Meglio rischiare di perdere un principe azzurro, un improbabile principe azzurro, che non rischiare concretamente di ritrovarvi a letto col nemico. In sostanza, il senso di quello che vi dico è, non abbiate paura, voi donne, di esplorare quanto più possibile la vita dell'uomo che vi sembra di amare e dal quale vi sembra di essere amati. Non abbiate paura di fare domande, non abbiate paura di, virgolette, indagare, certo, con intelligenza, insomma, con savoir-faire, perché purtroppo quando lo scoprirete potrebbe essere troppo tardi, troppo tardi per fuggire, troppo tardi per uscirne anche vive, insomma. Uno dei miei slogan preferiti quando partecipavo a questi convegni, quello che scrivevo sempre e chiedevo al gruppo di dire viva le donne e che le donne vivano. Perché, insomma, sono anche un bel profumo nell'universo. Bene, l'aforisma che ho messo sul mio profilo di Facebook oggi è tratto da un poeta lituano, non so quali sia la pronuncia, Giurgis Baltrusaitis, il quale dice una cosa molto carina. Giovinette gentili e maliziose, abbiate cura delle vostre rose. Questa frase l'ho tratta risfogliando un vecchio libro che non ricordavo di avere e che è un libro di Ercole Scerbo, Il nome della cosa. Divertentissimo. Praticamente raccoglie tutti i nomi e i nomiglioli degli organi sessuali. È scritto in maniera dotta, dotta, scusate, ogni tanto viene fuori una O che non è proprio corretta, precisa, e mi è venuto in mente, ritrovandolo, un aneddoto reale che ho vissuto tanti anni fa quando tenevo dei corsi in Calabria. Praticamente andavo in Calabria e tenevo, non so, andavo a Cosenza, a Catanzaro, Reggio Calabria e il venerdì facevo terapie, incontri individuali, non so, a Cosenza e poi facevo la sera la conferenza introduttiva sull'ipnosi. L'indomani andavo a Catanzaro, facevo incontri di psicoterapia e la sera facevo la conferenza. L'indomani andavo a Reggio Calabria e facevo di nuovo terapie e conferenza la sera. L'indomani, ritornavo magari a Catanzaro, in uno di questi miei pellegrinaggi professionali in Calabria ricordo che mi portarono un ragazzo di 18-19 anni che era diventato improvvisamente mutasico, muto. Non che fosse muto, aveva sempre parlato, magari poco, però aveva sempre parlato. Poi di improvviso un bel giorno cominciò a non parlare più e i genitori molto preoccupati me lo portarono chiedendomi di provare con l'ipnosi a ridargli la favela, insomma. In realtà sì, l'avevo ipnotizzato ma non ero riuscito a farlo parlare. Comunque, siccome l'indomani andavo a fare di nuovo una conferenza di sedute in un'altra città della Calabria proposi ai genitori, fatelo venire con me, in questo modo avrò la possibilità di starci una giornata intera di fare la seduta e di parteciperà ai gruppi e quello che è. Mentre costeggiavamo il Tirreno per andare, non so dove ora, non ricordo se su o giù, quello che è, così siccome io sono nato a Milano ma sono stato allevato dai miei nonni paterni in Sicilia e mi venne in mente così, chiacchierando, c'era mia moglie accanto a me, lui che era in macchina dietro con noi e mi venne in mente questa cosa, dico però che cosa buffa? In siciliano l'organo sessuale maschile viene espresso con una parola al femminile, ve la risparmio ma insomma fidatevi. E io ho avuto quattro sorelle, mi ricordo i miei nonni parlavano siciliano strettissimo, mio nonno era totalmente analfabeta, mia nonna sapeva leggere, scrivere e fare di conto e ricordo che riferendosi alle mie sorelline magari usavano per il femminile un sostantivo maschile e quindi così mentre guidavo sopra pensiero mi viene in mente che strana cosa effettivamente e allora ripensando anche ad altre regioni italiane i termini che si usano chiesi così ma senza neanche pensarci a lui che era seduto dietro ma da voi come si dice, come si dicono queste cose qua? Avvenne il miracolo, cominciò a parlare e a sciorrinare decine e decine di termini sessuali sia maschili sia femminili di tutti i dialetti possibili e immaginabili, calabresi, siciliani, pugliesi, campani, lombardi, liguri, emiliani, romagnoli, insomma una cosa incredibile. Si produsse il miracolo, si risbloccò, passammo una giornata divertentissima durante i corsi, pranzo, cena, poveriggio, insomma le sedute, la sera e i genitori mi considerarono un santo e questa cosa mi fa riflettere che molto spesso, soprattutto lavorando con l'ipnosi, possono avvenire questi tra virgolette miracoli che sono del tutto accidentali e casuali. Magari poi c'è qualcuno che ci scrive un bel trattato sulla famosa tecnica ipnotica di allacciarsi la scarpa facendo finta di dare la mano ad uno e poi invece mentre quel povero disgraziato sta cercando di darti la mano l'ipnotizzatore si china immediatamente come per allacciarsi la scarpa lasciando l'altro così con la mano a mezz'asta e spaesato. Ecco, in realtà c'è una logica dietro questa tecnica però non è corretto chiamarlo una tecnica. Cioè ha funzionato quella volta, magari non funzionerebbe mai più. La logica è lo spiazzamento, cioè l'uscita dagli schemi, cioè il fare qualcosa di totalmente inaspettato, quello che i latini chiamavano il non sequitur, cioè qualcosa che l'altro neanche si può immaginare. Questo è uno shock per la mente cosciente che quindi, essendo destabilizzata, permette all'inconscio di emergere. In realtà tutte le tecniche ipnotiche hanno come scopo quello di depotenziare la mente cosciente e di far emergere l'inconscio. E in fondo nei processi di istituzione, quando noi cerchiamo di affascinare un'altra persona, cerchiamo di colpirla. Come? Con una battuta. Come? Con il nostro aspetto, con il nostro comportamento. cerchiamo di squassare le sue aspettative, cerchiamo di sorprenderla. Certe volte ci riusciamo, certe volte non ci riusciamo. Ma torniamo a noi. Allora, evitare i killers, quelli che poi si sveleranno potenzialmente pericolosi, ma anche cercare di scoprire in anticipo quelli che sono improbabili amanti, cioè quelli che magari ti fanno credere chissà quali godimenti fantastici stellari ti potranno donare. Poi, nella realtà, ricordiamoci, è più probabile che un uomo deluda una donna che non che una donna deluda un uomo. Torniamo però a noi. Il libro, questo che vi consiglio, non vi leggerò quasi nulla di questo perché è riempito di citazioni e di aneddoti dottissime, ma non fa parte proprio del mio stile. Però vale la pena di leggere qualche cosa, la quarta di copertina, e poi vi leggerò alcune voci dell'indice, non tutto, perché sennò tradirei la mia normale ritrosia. Allora, il nome della cosa, un'opera originale, frutto di uno studio comparato sui nomi, nomignoli ed eufemismi relativi agli organi sessuali. È vero, ci sono i termini in francese, in inglese, in spagnolo, non so, forse anche in tedesco, per tutte le lingue letteralmente. Una ricerca tanto più divertente quanto più minuziosa, estesa all'area italiana, francese e anglo-americana, che offre spunti di riflessione per meglio comprendere mentalità, tabù e cultura di vari popoli. Direi che, insieme ai manuali di Massimo Taramasco, assolutamente, nella biblioteca del seduttore seriale, non può mancare questo libro. E vediamo un po' qualcosa dai titoli. Ripeto, ne leggerò solo i titoli dei capitoli, ne leggerò solo alcuni, perché altri sono imbarazzanti pure per me. Allora, accensione dell'amore. Carino questa cosa qua. Aggeggi e oggetti vari, bastoni, pali e simili, pendagli, chiavi e oggetti penetranti, braccia, gambe e code. Salto. Difetti fisici, canne, manici e strumenti musicali, generi alimentari, pure questo. Salto. Uccelli e altri animali, vegetali, esaltazioni e personificazioni, lievitazione universale. Mi toccherà rileggerlo dalla prima pagina, perché non ricordavo quasi nulla di tutto questo. Salto. Salto. Numeri significativi. Anche questo bisogna me lo vada a rileggere. Poi ci parla anche della natura della donna e delle metafore note e metafore ignote. Anche queste me lo devo rileggere attentamente. Buchi, nidi, guaine, foderi, borse, scatole simili, bocche occhio, recipienti domestici. Salto. Anelli e altre piccole cose. Salto vuol dire che mi imbarazza. Nel regno animale, nel regno vegetale, esaltazioni e personificazioni, oggetti vari, trappole, serrature e artifici, strade, porte e finestre, nomi di luoghi e le più singolari metafore. E c'è addirittura, ci sono addirittura delle tavole comparative. Ovviamente l'indice dei nomi e l'indice analitico. Ma andiamo oltre. Allora, sedurre. Ammesso che valga la pena di impegnarci nel sedurre tizio o caia, ricordiamoci la distinzione fondamentale. Sto cercando di sedurre in maniera predatoria per il solo fatto di poter aggiungere una tacca la mia collezione. Sto cercando di sedurre per approfittare di quella persona che magari potrebbe raccomandarmi per un lavoro, darmi un aiuto economico o quello che è. O sto cercando di sedurre quella persona perché io ne sono già innamorato, già innamorata. mi sembra in buona fede di poter essere la persona giusta per lei o per lui e quindi vorrei che lui o lei si accorgessero di me, mi prendessero in considerazione, scoprissero il mio amore per loro. Ecco la distinzione fondamentale. Perché ricordiamoci, al di là dell'età in cui, come si dice, più esperienze facciamo, meglio è, ricordiamoci che anche fare sesso, anche con leggerezza, può produrre stress, può produrre rischi sul piano della salute sessuale, per esempio, può produrre rischi sul piano del coinvolgimento affettivo. Non è infrequente che o lui o lei giochino a sedurre l'altro, ci riescano e l'altro però si è innamorato veramente. E questo produce successive devastazioni fino alla depressione, ma può produrre anche un atteggiamento di sfiducia nei riguardi dell'altro sesso. Cioè, siccome il nostro inconscio tende a lavorare sulle generalizzazioni, se abbiamo avuto una o due o tre delusioni, tecnicamente potremmo chiamarle anche fregature, potremmo generalizzare l'esperienza e pensare che tutti gli uomini o tutte le donne siano portatori di quella fregatura, di quel comportamento. ricordiamoci che le persone con cui avremo a che fare, secondo l'insegnamento dell'analisi transazionale, potranno essere o, virgolette, equilibrate, governate fondamentalmente dallo stato dell'io adulto, o potranno essere invece squilibrate perché governate prevalentemente dal loro stato dell'io o genitore, e vi ricordo lo stato dell'io genitore si suddivide in stato dell'io genitore normativo, quindi aggressivo, autoritario, penalizzante, che tende a dominare nella relazione, oppure stato dell'io materno, genitore sacrificale, genitore oblativo, quindi che tende a proteggere, ad aiutare, a sacrificarsi per far stare bene l'altro. Tutte e due le relazioni con un partner o una partner governati dallo stato dell'io genitore, sia che si tratti di genitore normativo, sia che si tratti di genitore affettivo, sono deludenti nel lungo periodo, ti faranno stare male. Col genitore, col partner governato dal genitore normativo, tu ti sentirai sempre una nullità. Con un partner, una partner governati dal genitore affettivo, tu diventerai viziato, viziata nella relazione, non potrai crescere e in realtà la relazione sarà destinata ad essere sul piano esistenziale fallimentare. ma non meno pericolose e destabilizzanti sono le relazioni con un partner o una partner governati dal loro bambino, cioè dallo stato dell'io bambino, che si tratti del bambino ribelle, quello che non vuole regole, quello che vuole assolutamente fare tutto quello che gli passa per la mente senza tenere conto dei pericoli o che si tratti del bambino vittima, sempre bisognoso di affetto, di rassicurazione, di prove, d'amore o che si tratti del bambino adattato, quello che non prenderà mai l'iniziativa, vivrà sempre a rimorchio delle tue iniziative, quindi alla lunga può diventare un peso morto, o il bambino perennemente in shock, cioè quello, ricordatevi lo stato dell'io, uso il termine bambino, ma vale anche per la donna naturalmente e non ha niente che vedere col fatto anagrafico, è lo stato dell'io secondo il modello dell'analisi transazionale, anche quello che perennemente viene offeso, ferito, offesa, ferita da tutto e da tutti. E poi c'è quello governato dal bambino interiore, quello sempre triste, quello sempre pensoso, quella sempre pensosa, quelli che stanno sempre a pensare ai massimi sistemi. la cosa più intelligente è investire nella fase iniziale di conoscenza per capire se l'altro, l'altra veramente arricchiscono la nostra vita, sono portatori sani di felicità, di gioia, di curiosità nei riguardi della vita o sono persone che avrebbero bisogno più di una psicoterapia, ipnotico, non ipnotico, ora non ha importanza, che non di un partner e soprattutto ricordatevi non è nei momenti di solitudine affettiva che sarete lucidi, lucide, per capire veramente se quella persona sia giusta per voi oppure no. Però, per concludere questa parte, non abbiate paura di scoprire prematuramente, precocemente, se dietro quell'apparente seduttore non si nasconda un potenziale killer, forse non killer fisico, ma killer dell'amore, killer del sentimento, killer della vostra passione e vitalità. E davanti a quello, quella che si presentano come intrigantissimi amanti, cercate di capire dove sta il baco, dove ci può essere la fregatura. Non abbiate paura di perdere, perché la paura di perdere è sicuramente un grande nemico. Ma soprattutto non abbiate paura di scoprire l'immaturità sostanziale della persona che vi piace in quel momento. Che si tratti di uomo-donna non ha importanza, l'immaturità non ha niente a che vedere con l'età anagrafica. Uno può avere 50 e passa anni ed essere immaturo, una può avere 50 e passa anni ed essere immatura. E a questo riguardo il film che vi voglio proporre questa volta è un film simpaticissimo che vi consiglio di vedere con piacere. E a casa con i suoi, sto vedendo il bigliettino naturalmente perché ho sempre paura di dimenticarmi qualcosa che potrebbe essere utile per voi. A casa con i suoi il regista è Tom Day, è un film americano del 2006. È molto simpatico perché uno giustamente che vive e bene in famiglia, il protagonista, e non ha nessuna intenzione di schiodare, pur essendo credo 35 anni, 40 anni, ora non ricordo esattamente, non ha nessuna intenzione di schiodare, tanto al punto che i genitori ingaggiano una professionista che, virgolette, faccia finta di, lo coinvolga emotivamente, lo faccia innamorare di lei e lo induca a lasciare la casa familiare per andare a vivere con lei. Non vi sto a raccontare tutto il film che è molto simpatico perché questo genere di film sono decisamente istruttivi, sono uno splendido corollario ai manuali di Massimo Taramasco perché, come si dice, il film ci permette anche di calarci nelle situazioni. Bene, vorrei salutarvi oggi ricordandovi intanto di ripassarvi la sequenza delle schede alfanumeriche 0, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, amo, 4, r, re, 5, l, l, aglio, 6, c, g, ciao. Poi, la prossima volta esploreremo 7, 8 e 9 e avremo finalmente il quadro completo. Ma soprattutto vi ricordo di ripassarvi la sequenza perché, ripeto, comincerete a divertirvi in maniera nuova ogni volta che vorrete impegnarvi nella seduzione con qualcuno. avrete nuovi giochi strabilianti che potrete fare. Intanto vi ripasso la sequenza. Ricordatevi di ripassarla mentre io ve la ridico, magari a occhi chiusi, mettendoci quanto più pav possibile di vostro. Insomma, la famosa trottola, pancia, lama, lava, buca, piumino, muffa, regina, cero, mamma, fiamma, nuca, palazzo, neve, frutta, pacco, doccia, bomba. e rimanendo sempre a occhi chiusi ve la ripropongo all'inverso. Bomba, doccia, pacco, frutta, neve, palazzo, nuca, fiamma, mamma, cero, regina, muffa, piumino, buca, lava, lama, pancia e trottola. Non preoccupatevi di scoprire il perché, vi verrà tutto chiaro al momento giusto, perché anche questo è uno splendido allenamento a sapere aspettare i risultati. Cioè, niente che valga la pena è un frutto spontaneo della natura. bisogna un po' lavorarci e il piccolo impegno che vi sto chiedendo fatto in maniera divertente vi ripagherà notevolmente. Questa volta vi saluto oltre che con il consueto buona vita anche con una deliziosa espressione lasciando a voi l'impegno di scoprire a quale lingua appartenga. che tradotto vuol dire ralleghiamoci e siamo felici. Buona vita e ottime giuste seduzioni evitando i killer d'amore ma anche smascherando precocemente gli improbabili amanti. È tutto lì il problema la precocità. Ciao ciao a tutti.